Un cittadino ben informato è un cittadino che sa difendersi, perché noi vogliamo aditire la sala consigliare e fare dei corsi di informazione continuativi, faremo dei corsi di informazione informatico in base, regaleremo i computer vecchi ma funzionanti ai cittadini anziani in maniera che possano utilizzarlo e faremo dei corsi di informazione anche di base, di diritto, una persona che sappia leggere un contratto, che sappia difendersi, che sappia cosa voglio dire alla famiglia. Allora, questo movimento, loro sono morti, lo sanno, fanno i sondaggi, io ho visto come fare i sondaggi, è pazzesco.